Quando il pubblico ha lasciato la tribuna, i motori sono spenti e qui è tutto silenzio, vengo all'appuntamento secreto con il fantasma del mio vecchio amore. Si chiamava Alfetta, aveva il colore rosso dell'Italia. Anche i meccanici sono le stesse che aveva allora, San Arde e Sala, 8 cilindri in linea, 1500 con compresore, velocità più di 300 all'ora. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo, ma quando vengo a Milano mi permette di flettare ancora un po' con lei lungo il grande viale del circuito. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Ormai da qualche anno la scuderia l'ha messo nel museo. Grazie.